Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. E colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare poveri. Mi ha mandato a guarire gli afflitti, a bandire liberazioni ai prigionieri, a rimettere in libertà, ti oppressi. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che ne c'è lì. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Com'io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Padre. Lora è venuta. Abba. Padre. Ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice. Sembra. Penso non la mia volontà, ma la tua sia fatta. e le tue mani rimetto lo speso mio io vi lascio pace vi do la mia pace io non vi do come il mondo dà il vostro cuore non sia turbato nel mondo avrete tribolazione ma fatevi animo io ho vinto il mondo poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna non vi do come il mondo non vi do come il mondo Grazie a tutti. Elemosina, non avete nulla da darmi? Elemosina, guardaci. Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Alzati e cammina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete. E conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione, in presenza di voi tutti. Ravedetevi dunque e convertitevi. onde i vostri peccati, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio. che sono stati finché, infatti, il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Arrestatelo. mandato per benedato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità. Con qual potestà ho in nome di chi avete fatto voi questo? Rettori del popolo ed anziani, Se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce qui, in presenza vostra, guarito. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare e in nessun altro è la salvezza, poiché non vè sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme. E noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, dividiamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome. Questo consiglio vi ordina di non parlare nel nome di Gesù né insegnare nel nome di Gesù. La violazione di questa ingiunzione richiamerà su di voi la punizione, secondo la legge. Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché è quanto a noi. Non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Siete stati avvertiti. Sì. Siete stati. Siete stati avvertiti. questo consiglio vi ordina di non parlare nel nome di Gesù né insegnare nel nome di Gesù la violazione di questa ingiunzione richiamerà su di voi la punizione secondo la legge poiché anche Cristo ha sofferto per i peccati Egli giusto per gli ingiusti per condurci a Dio essendo stato messo a morte quanto ha la carne ma vivificato quanto ha lo spirito Cristo ha detto che voi siete la luce del mondo Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta Nel nome di Gesù Cristo e il Nazareno alzati e cammina non è un'esplosione non è un'esplosione non è un'esplosione non è un'esplosione Andate, presentatevi nel tempio e qui vi annunziate al popolo le parole di questa vita. Gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e ammaestrano il popolo. Non abbiamo l'oro del tutto vietato di insegnare in cotesto nome. Ed ecco, avete riempito a Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di cotesto uomo. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'idio dei nostri padri ha risuscitato Gesù. Che voi uccideste appendendolo al legno. Esso hai Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose. E anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Camaliele, che punizione è prevista dalla legge? E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non li potete distruggere. State attenti dunque, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Vi era stato proibito di predicare nel nome di quest'uomo, Gesù, eppure non avete obbedito. Per questa violazione avrete la massima punizione prevista dalla legge di Dio. eppure non avete obbedito. eppure non avete obbedito. eppure non avete obbedito, eppure non avete obbedito. ma FM Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Levati. Anche io sono un uomo. Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Io ero nella città di Iope, in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione. Una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a terra. Ed io, fissatolo, lo considerai bene e vidi i quadrupedi della terra, vidi le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva, Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi, in nio modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai, mai entrato in bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo. Le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde. E ciò avvenne per tre volte. Poi ogni cosa fu ritirata in cielo. E lo Spirito mi disse che in quell'istante tre uomini, mandatemi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Ora anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Voi sapete come non sia affatto lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni senza fare obiezioni. Io vi comando, dunque. Per qual cagione mi avete mandato a chiamare? Sono appunto proprio adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state tutte ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli alberga in casa di Simone che fa il cogliaio presso al mare e quando poi verrà Lui ti parlerà. Perciò in quell'istante io mandai da te. Ora, dunque, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. In verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni come il Dio ha unto Gesù di Nazareth di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano dominati dal diavolo perché il Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei Giudei e a Gerusalemme ed essi lo hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso ha il Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Egli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la Sua risurrezione dai morti ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti di Lui attestano tutti i profetichi mediante il Suo nome chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati. Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? la parola del Signore ha detto Giovanni ha battezzato con l'acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo se dunque il Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo chi ero io da potermi opporre a Dio? E Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. se Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di tutti quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia. Poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine. Quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, sì, nelle sue mani, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E dunque, se un uomo è in Cristo, egli è una nuova creatura. le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. in quanto che il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. vi sopplichiamo e nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto peccato. Egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Scrivi, poiché, quando anche io vi abbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce. E seppur ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella epistola, quantunque, per un breve tempo, vi ha contristati. Ora mi rallegro non perché siete stati contristati, ma perché lo siete stati a ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio, onde non aveste a ricevere alcun danno da noi. La tristezza, secondo Dio, porta ravvedimento che mina alla salvezza e del quale non c'è da pentirsi. Ma la tristezza del mondo porta alla morte. E infine io dico, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fiammi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della frontezza che dà l'Evangelo della pace. Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazione e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi. leggi. Or, fratelli, circa la venuta del Signore Gesù Cristo, la venuta del Signore Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui, non lasciatevi travolgere la mente né turbare da ispirazioni o da discorsi o da qualche pistola data come nostra quasi che il giorno del Signore fosse vicino. Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà e non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione. Nessuno vi traga in twee o fratelli, Il figli è flottato, quindi non si può Nessuno viro, il figlio lo vi è piuttosto che e solo per anni Or sappi questo che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbedienti ai genitori, ingrati. Irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede. Calugnatori. Intemperanti. Spietati. Senza amore per il bene. Traditori. Confi. Temerari. Amanti del piacere anziché di Dio. Aventi le forme della pietà, ma rinnegandone la potenza, se ne allontanano. L'esercno! Aure! Na città giornata. Aure! Ma la città giornata. Aure! La città giornata. Poi-la! Questo lo sapete, fratelli miei diletti, ma sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare, lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non mette in opera la vita, la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma siate facitori della parola e non soltanto uditori. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che mira la sua natural faccia in uno specchio. E quando si è mirato, se ne va e subito dimentica qual era. Ma chi riguarda bene nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera questi, non essendo un uditore dimentichevole, ma facitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Se uno pensa ad essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa. Visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi pure dal mondo. Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti falliamo in molte cose. Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano sospinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi le governa. così anche la lingua è un piccol membro e si vanta di gran cose. Vedete? Un piccol fuoco che gran foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita ed è infiammata dalla genna. Ogni sorta di fiere ed uccelli, di rettili e di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa. è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione, fratelli miei. non deve essere così. più di corso. l'Italia e non deve essere così. è un beneficio. di certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Tramite essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e tramite essa, benché morto, egli parla ancora. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano con diligenza. Bene. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da più timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli area da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede Sara, anche ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. e perciò, da uno solo e già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare che non si può contare. In fede moriron tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste. Perciò, e Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu provato, offrì Isacco, ed egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Egli a cui era stato detto, è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti. un dè che lo riempie per una specie di risurrezione. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello, e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava la rimunerazione. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo essere state circuite per sette giorni. E che dirò di più? Le donne ricuperarono per risurrezione i loro morti. E altri furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione affin di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigione. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché il Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi, senza di noi, non giungessero alla perfezione. non so volendo capiree capisciare alle lezze. Le che città diitutionali, non so volendo capirei da l'arco di più, non so volendo capiree capisciare alla perfezione.